Si sta sviluppando nella nostra provincia l'agroindustria, si sta sviluppando il settore del commercio, tengono bene i settori della moda e metameccanico, abbiamo una forte crisi nei settori dei servizi finanziari, del credito e nell'edilizia, quindi quella che sembra una stagnazione è invece una situazione di profondo cambiamento. Il livello dell'acqua è lo stesso, io uso questa frase, ma il colore dell'acqua sta cambiando. È una fotografia della situazione lavorativa, occupazionale e politica nella provincia di Arezzo che presenta ancora molte ombre, quella che fuoriesce dal Consiglio Generale CISL. A preoccupare rimane ancora lo spettro della disoccupazione, soprattutto quella giovanile che non accenna a diminuire. Vediamo che all'inizio di quest'anno c'è un aumento della disoccupazione, probabilmente legato al calo di cassa integrazione. Stanno finendo gli ammortizzatori sociali, la lunghezza degli ammortizzatori sociali di prima è cambiata, sono stati estesi a più persone, però questo ha fatto sì che chi era in cassa integrazione sia ora disoccupato. Tra le questioni di cui si è particolarmente occupato il sindacato nell'ultimo periodo, a causa dei dilaganti malumori sia nei lavoratori che nei cittadini, è indubbiamente quella delle poste del servizio del recapito a giorni alterni, ma non solo. A livello nazionale domani c'è un attivo unitario fra tutte le parti sociali, quindi vediamo quello che potrà avvenire fuori, ma molto probabilmente si andrà incontro a mesi di facilitazione e di una vertenza, anche perché molto probabilmente si potrà arrivare fra settembre e i primi d'ottobre anche allo sciopero generale, non solo per il problema del recapito a giorni alterni, ma ci sono problemi seri anche su MP, cioè la sportelleria. Il problema più grosso è anche l'ulteriore vendita di un 29% di poste ai privati. In terra retina la vicenda della popolare dell'Etruria ha fatto tremare il tessuto economico e non solo, ma ad oggi con la vendita della nuova Banca Etruria e degli altri tre istituti di credito salvati all'orizzonte, le preoccupazioni dei lavoratori si concentrano sulla necessità di un mantenimento dell'organico. Noi i compiti a casa li abbiamo già fatti, Banca Etruria li ha già fatti, noi abbiamo firmato già un accordo nel 2015, due giorni prima del commissariamento, con il quale abbiamo ridotto notevolmente sia il costo del personale sia il numero degli addetti e la situazione delle nostre filiali in questo momento dimostra assolutamente che non siamo per niente troppi, anzi.